e salve simbers io sono mary shell e oggi siamo nella video recensione di the sims 4 nuove stelle o get famous come preferite comunque ragazzi non vedevo l'ora non vedevo l'ora che uscisse come al solito come tutte le espansioni ma iniziamo subito a vedere tutte le cose del cas e della modalità compra e costruisci ovviamente in queste recensioni lunghette ragazzi perché comunque sono espansioni belle grandi vi faccio vedere solo le cose diciamo più importanti di cas e modalità compra e costruisci poi il resto lo vediamo in game perché vi porterò una mini serie dedicata la porterò o oggi stesso o domani quindi iniziamo quante pettinature oh mio dio allora questa è una e mi sembra una pettinatura molto di scena da usare in scena magari in stile ottocentesco mi piace molto wow bella 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 poi c'è questa anche questa la vedo come pettinatura di scena oppure quando la sim diventerà molto molto famosa questa è una pettinatura più da fangirl secondo me con le treccine guardate qua veramente bella mettiamola ancora più bionda per vedere meglio guardate come si vedono bene le treccine è fantastica poi abbiamo questa e come vedete ha delle mesh delle mesh che cambiano di colore a seconda del colore base che abbiamo nella nostra pettinatura bellissimo mi piace tantissimo poi abbiamo questa che è sempre questa ma è appunto classica guardatela qui veramente bella guardate che taglio che taglio particolare poi abbiamo quest'altra molto molto carina anche questa la vedo bene ad una ragazzina una fangirl mi piace tantissimo guardate con questa treccia la adoro tantissimo abbiamo questa coda wow tutta colorata che l'abbiamo vista anche nei trailer bellissima e quest'altra coda assolutamente stupenda poi passiamo alle parti superiori quante ragazze quante vediamolo in velocità allora abbiamo questa qui che la vedo un po più per andare in scena però molto molto bella sempre di vari colori poi abbiamo questa qui che mi sembra più da lavoro se devo dirvi la verità col tesserino e tutto quanto questa molto classica non mi fa proprio impazzire però è carina quest'altra che sa molto di avventuriera sempre da palcoscenico questa che va bene invece anche da casa ottima veramente bellissima molto molto carina questa qui che prende la nostra sims molto molto bella questa che io adoro tantissimo mamma mia ragazzi è stupenda quanti colori quanti temi questa qui mi piace un sacco sa molto di rock non so perché ma mi dà questa impressione questa magliettina bella veramente bella o mi piace molto rigata rigata in assoluto la preferisco e poi questa ragazzi per quando la sim diventa famosa ecco qui il giacchettino in finta pelle che per l'è vera spero di no comunque eccolo qua stupendo bellissimo e poi infine abbiamo questa che è sempre un costume secondo me c'è più costume di scena ecco perché vedete a questi queste tasche sembra che abbia le bombe quindi insomma è più di scena perfetto vediamo subito le parti inferiori abbiamo quattro parti inferiori abbiamo questa gonna bellissima stupenda veramente questi pantaloni wow no adoro potrebbe creare una tendenza molto particolare vediamo guardate anche sporchi sporchi li adoro poi questi wow e questo lo vedo bene per fare la stilista truccatrice guardate pennellini wow e poi questa gonna sì una bellissima gonna bellissima veramente veramente bella ok abbiamo questo abbiamo tanti costumi di scena ragazzi bellissimo guardate dietro sulla schiena aperto lo adoro poi abbiamo questo qua sa molto di fan girl questo molto poi abbiamo wow questo se si diventa famosi è così ragazzi guardate qui questo ma cos'è my tomb raider bellissimo questo qui stile 800 700 guardate quanto è bello veramente bello poi abbiamo questo super elegante questo qui più semplice ma mi piace veramente moltissimo wow questo qui che potrebbe essere usato anche per non lo so per cose semplici una piccola festicciola o anche per stare in casa questo qui bello bello lo userò tantissimo oh mamma mia che bello guardate che cinturone stupendo stupendo non ho parole abbiamo quest'altro wow mi ricorda un po quello di vita in città ma è diverso comunque ed è bellissimo abbiamo questo ma è tipo un abito da sposa è perfetto come abito da sposa anche ma anche come abito di gala molto molto carino veramente poi abbiamo questo sempre un costume di scena questo invece per stare a casa è perfetto wow quanta roba poi questo qui da signorina elegante adorabile questo qui oh mamma mia ragazzi tipo 1300 ci siamo come come data ovviamente sparo un po così ma si ragazzi col corsetto è stupendo abbiamo questo che anche questo lo vedo anche come vestito da sposa eh ragazzi bello questo qui mamma mia mi sto gasando più vado avanti più mi gaso mi sa un po di orientale poi questo qui wow e ovviamente ragazzi molti sono costumi di scena come vi sto dicendo da mezz'ora praticamente però bellissimo invece c'è questo maglioncino adoro tantissimo poi abbiamo questa uh questo vestito stavo per dire questa gonna invece questo vestito bellissimo stupendissimo e questo qui uh da ricconi da ricconi lo adoro tanto 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 vediamo subito gli accessori per gli accessori abbiamo solo questo orologio molto carino di vari colori wow però veramente bello sembra placcato d'oro così e poi questi calzini simpaticissimi che userò tantissimo guardate qua in varie fantasie adorabili perfetti poi scarpe come scarpe abbiamo queste qui da ginnastica però eleganti queste qui appunto da festa col tacchetto veramente veramente belle mi piacciono tantissimo queste qui le mie preferite in questo momento guardate che belle guardate le bianche bellissime poi abbiamo queste tipo ciabattine ci sta bene per il relax in casa e poi abbiamo questi stivaloni per quando insomma fa freddo magari con un bel cappotto mi piace tantissimo come nuove aspirazioni e tratti abbiamo due nuove aspirazioni una è attrice magistrale il sim vuole perfezionare la propria arte e diventare un attore acclamato eccolo qui e la seconda è celebrità di fama mondiale il sim vuole diventare gloriosamente famoso bellissime tutte e due e invece come tratti ne abbiamo soltanto uno peccato solo uno però molto molto carino egocentrica questi sim pensano solo a se stessi possono andare a caccia di complimenti sono più entusiasti quando ricevono un dono e tendono a diventare tesi quando non si dedicano loro sufficienti attenzioni le luci della ribalta riservate alle celebrità sono qualcosa che in genere apprezzano del resto tutti dovrebbero adorarli quanto loro adorano se stessi no? tac bellissimo oddio che bello rivediamolo no è stupendo adesso andiamo nella controparte maschile anzi no ragazzi scusate i tipi di look lo sto facendo molto così insomma questo video molto sciallo però ci piace allora tipi di look il primo è questo oh mio dio è stupendo anche questo mi piace veramente tanto e poi abbiamo questo o questo forse è il mio preferito sì mi piace tantissimo veramente bellissimo poi abbiamo questo per le serate di gala molto 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 bello o anche come abito da sposa ci starebbe bene e poi questo qui no vabbè sicuramente dovremmo far andare in giro una sim famosa così stupendo poi con la miniserie lo useremo guardatelo qua trucco un po' esagerato forse ma mi piace tantissimo andiamo dai maschi ok maschioni andiamo nei capelli wow quattro capelli per i maschi è una novità ragazzi è una novità allora questi sono i capelli uh belli mossi li adoro poi abbiamo questi col codino uh no stupendi questi qui un po' lunghi un po' da fanboy molto molto belli e questi da da riccone secondo me ragazzi questi sono da riccone bellissimi poi andiamo nelle parti superiori degli abiti abbiamo questa maglietta questa questa giacchettina bellissima questa qui uh questa qui tanti sono costumi appunto di scena ma mi piacciono tantissimo questa maglietta wow guardate questo per recitare va benissimo poi abbiamo questo questo qui è anche da casa invece ed è stupè wow mancava mi piace poi abbiamo questa qui che è molto semplice la vedo bene sugli adolescenti poi abbiamo questa qui wow questa qui col col sciarpino un po' insomma da personcina elegante poi abbiamo questo sempre costume di scena un po' come nelle ragazze e poi questo qui oh anche lui ha il finta la finta pelle addosso bellissima bellissima andiamo nelle parti inferiori abbiamo questo qui stupendo questo wow davvero uomo del west poi abbiamo questo qua oh questo bellissimo questo che è molto sciallo per andare in palestra lo vedo bene aspettate vediamo ai lati molto carino poi abbiamo questo qua che è come per le ragazze e alla fine questo qui che è come per le ragazze anche questo andiamo negli abiti interi abiti interi abbiamo anche per gli uomini questo costume molto carino questo qui oh sia per andare in scena che non questo oh mio dio non lo metterò mai a nessuno se non per andare in scena appunto ma se no no poi questo qua molto bello no vabbè è super originale soprattutto magari non si usa spesso ma è super originale abbiamo questo guardate questo ma cosa fai il cameriere poi abbiamo questo qua oh per sposarsi magari ci sta poi c'è questo sempre costumi di scena questo guardate oh l'adoro questo che è un po' un po' da pirata eh vi devo dire un po' da pirata questo qua wow da samurai non so se sia da samurai però mi piace abbiamo questo per andare in giro ehm per la città quando saremo famosi con questo cappottino ci sta benissimo abbiamo questo qui per andare in vacanza perfetto e questo qui che mi sa sempre molto di vacanza non lo adoro però mi piace dai non ci sta male sì come accessori abbiamo anche per i maschi l'orologio eccolo qui molto carino e poi abbiamo questi anelli che le donne non hanno però forse era meglio così perché in effetti sono un po' strani però insomma non lo so ci stanno e poi queste calzine che sono uguali uguali a quelle delle femmine e ci piacciono perfetto direi di vedere se c'è qualcosa per i bambini per i bambini abbiamo nessun capello però abbiamo questa giacchettina wow per i piccoli bambini famosi naturalmente quest'altra giacchettina questa è un po' da ricconi questa bellissima questa qui da rebel da ribelle lo vedo bene anche per le bambine poi nelle parti inferiori non troviamo niente invece nelle scarpe troviamo questo perfetto wow bellissimo e poi abiti interi nessuno ed è ottimo così però abbiamo i tipi di look guardate qua in vari colori ci piace magari lui potrebbe star bene così con un capello a caso per le bambine allora come parti superiori abbiamo le stesse identiche questa cosa mi delude un pochino i cose per i maschi uguali 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 ah mannaggia però in più abbiamo gli abiti interi eccoli qua oh questo invece mi fa veramente felice guardate che bello uh molto bello magari mettiamo una pettinatura a caso giusto perché ci sia e poi non c'è assolutamente nient'altro a parte le scarpe che sono uguali a quelle dei maschi perfetto così tipi di look abbiamo una abbiamo qualcuno abbiamo questo guardate qui molto carino questo qua poi abbiamo questo qui che è appunto come quello per i maschi ma io adoro questo qua davvero professoressina e poi vediamo per i bebè giusto per curiosare per assicurarci ok abbiamo questa magliettina molto bellina e questo qui molto bellina non si dice ma io lo dico ok e questa qui oddio è adorabile guardate guardate adorabile no vabbè e poi abbiamo nelle parti inferiori questo pantaloncino stupendo scarpine niente tipi di look nulla capelli nulla comunque ve lo dico ma è nulla perfetto ok ragazzi abbiamo la nostra famigliola bella pronta pronta che è quella che uso sempre per le recensioni naturalmente non le uso in gioco ma per il gioco ragazzi la sim è pronta sta per arrivare la miniserie ve lo dico comunque andiamo a vedere la modalità compra e costruisci la primissima cosa che facciamo è vedere il nuovo scenario del sol valle guardate qua e guardate quanto spazio c'è qui mi sa che aggiungeranno tantissimi scenari comunque ci clicchiamo ed eccolo qui ragazzi del sol valle la città dei ricchi delle celebrità bellissimo vediamo i vari quartieri intanto leggiamo buverland delle celebrità in fatto di vita notturna il buverland delle celebrità è imbattibile solo i sim più famosi hanno accesso ai locali notturni più esclusivi della città è qui che tutti i nomi più importanti dell'industria vengono messi in mostra parco dei miraggi grazie alle sue abitazioni dal prezzo ragionevole e alla vicinanza al centro cittadino il parco dei miraggi è il luogo perfetto per una stella emergente che voglia iniziare la propria ascesa alla fama e io qui ho messo la sim della nuova serie che porterò al più presto o oggi o domani e poi abbiamo i pinnacoli ragazzi per i ricchi adatti per ricchi e famosi i pinnacoli vantano le case più costose di tutta del sol valle se vuoi vivere qui devi sfondare io direi che possiamo andare a verde vacuo e vedere che oggetti ci sono ed eccoci nella modalità compra costruisci ragazzi ecco gli oggetti non sono tutti non sono tutti perché alcuni sono oggetti di scena e non ve li ho messi come per esempio abbiamo queste cose qui vedete che sono come dire case finte proprio per andare in scena e recitare ma le vedremo con la carriera d'attore quindi mi sembrava inutile metterle lì e quindi ragazzi io direi di dare un'occhiata velocissima guardate le nuove pitture da muro guardatele qua con tutte le varie porte c'è anche la porta VIP questo è il cavo uno dei due cavo perché ce n'è un altro guardate qua abbiamo ovviamente anche nuovi tipi di piastrelle vedete ecco qui guardate qua anche da dietro bellissimo poi abbiamo nuovi recinti recinzioni eccetera eccetera guardate ve le mostro molto molto velocemente però sono tantissime cose nuovi tipi di sgabelli guardate bellissimo invece tantissimo questo è un tavolo basso mamma mia poi abbiamo questa bellissima mensolina diciamo da mettere in cucina vedete anche i piatti adoro tantissimo non commento tutto perché sono tantissimi oggetti ragazzi ma veramente tantissimi non li ho messi neanche tutti questo lavandino non devo commentarlo guardate la doccia bellissima e questa io la voglio la voglio quando la nostra sim diventerà ricca avremo questa invece questa è più da persone sì benestanti ma non ricchissime quindi bella lo studio fotografico guardate le luci le luci queste sono un po' da youtuber devo dire molto bello questo è per truccare i sim molto molto carino oddio guardate le telecamere guardate qua vedete molti sono oggetti di scena no questo per girare i film stupendo i vari bar ci piacciono i vari bar ovviamente tutto in vari colori non ve lo sto neanche a dire i letti bello questo è da ricconi questo è da persone più semplici ma guardate che bello bellissimo l'altro cavo molto carino e poi abbiamo vabbè queste decorazioni questo laghetto che è interattivo e adesso lo vedremo abbiamo questi mobili molto belli e questo è per ascoltare la musica questo bar super lusso piantine ma ragazzi non c'è proprio tutto qualcosa anche per il bucato molto interessante guardate questo tappeto lo adoro tantissimo ma come tappeti ve li sto aggiungendo adesso così ne abbiamo in realtà tantissimi vedete alcuni anche proprio da abbinare e sono tutti belli guardate questo sa un po' di sporco in certi punti ma molto molto mi piace moltissimo molto bello poi c'è questo qua appunto abbiamo questo qui che è tipo da abbinare sono tanti pezzi di tappeto vedete io posso separarli e si può creare una fantasia quindi ci piace ci piace tantissimo poi abbiamo questo armadio per gli abiti oh mio dio è stupendo oh mamma mia ragazzi troppa roba e poi abbiamo questa capsula per dormire che sa molto di The Sims 3 into the future ragazzi sembra molto stile futuro futuristico questo non mi dice molto cioè molto carino ma l'abbiamo già visto insomma diciamo che sa già di già visto ma questo è assolutamente bellissimo poi abbiamo questa questa console eccola qui bellissima in vari colori come sempre bellissimo ovviamente guardate quante cose nuove il water super lusso è stupendo postazione da tipo dj per mixare i brani ci piace tantissimo perfetto abbiamo visto un pochino gli oggetti direi magari di provare qualcosa e poi di vedere i tipi di stanze perché voglio provare con voi il laghetto il laghetto ragazzi sì in questo laghetto possiamo mettere dei pesci i koi i piragna gli spiritelli e gli squali io direi di andare gli squali ovviamente che è la cosa più semplice da fare poi i bambini con una certa immaginazione ammira gioca ah no anche senza immaginazione possono giocare qui e si immaginano le cose guardate quanta roba oddio è stupendo guardate è bellissimo con lo squalo dentro intanto lui può entrare salta dentro proviamo tanto anche se muore è lo stesso è tutto ignudo ragazzi tutto ignudo va nella vasca degli squali eccolo eccolo vai vai oddio c'ho gli squali ragazzi speriamo che no tutto bene gioca proviamo proviamo gioca no con gioca noi gli diamo tipo da mangiare la cosa ci piace wow poi volevo provare la postazione da trucco sempre se si può chiedi del trucco chiedi pettinatura chiedi del trucco ad Antonio avanti dai vediamo un po' com'è ma poi vedremo tutto in gioco proviamo giusto due tre cose perché sono troppe ok vediamo un po' oh molto bello vediamo visuale prima persona oddio la visuale prima persona ragazzi guardate qua no è stupendo tutte le altre cose le vedremo in gioco ma io voglio provare assolutamente la capsula cerca di avere un figlio fai fichi fichi con Vanessa dentro la capsula subito vediamo un attimo wow ecco di qua oddio no vabbè ragazzi è il top questa cosa è il top dovevamo vederla assolutamente in sede di recensione perché è il massimo wow no va bene ragazzi bellissimo non poteva mancare la capsula non poteva assolutamente mancare e il cavo ecco chiudi e blocca aggiungi denaro e possiamo mettere i simoleon tipo mille simoleon lei va a metterli vediamo un po' com'è l'interazione lui ecco qua e si informa il cumulo bellissimo ok ragazzi vediamo i tipi di stanze velocemente e poi chiudiamo la recensione ok ci sono delle stanze normali e poi ci sono i set i set secondo me ci interessano molto meno e non li posso nemmeno comprare ve li faccio vedere così tutti questi set ma li vedremo in gioco ragazzi tutto quello che non abbiamo visto in recensione lo vediamo in gioco chiaramente ed ecco le stanze per la casa allora no vabbè sono bellissime guardate qui tutto placcato in oro è bellissimo bellissimo questo è il bagno chiaramente la camera da letto ma vi rendete conto che camera da letto stupenda una cabina armadio tutta dedicata e direi che ci sta ci sta e poi qui abbiamo un giardinetto con tutte le seggioline addirittura il pacchetto di semi stupendo bellissimo bello 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 abbiamo visto ragazzi tutto quello che c'era da vedere ovviamente tutte le altre cose le vedremo ripeto nella miniserie che vi riporterò al più presto quindi ci fermiamo qua ditemi cosa ne pensate nei commenti se comprerete questa espansione a me sta già piacendo tantissimo e non vedo l'ora di esplorare la città con voi con la nostra nuova sim che non è lei ovviamente ma la vedrete presto quindi ci fermiamo mettete like commentate iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti